Il mio ruolo fondamentalmente è il ruolo di traghettare un comparto di studi universitari che è quello di cinema, di televisione, di video, traghettarlo come si diceva prima verso il digitale perché non è stato facile questo, perché ci sono state delle resistenze, ci abbiamo messo quasi cent'anni a capire che andava studiata anche la macchina tecnicamente, cinematografica, è arrivato McLuhan che ci ha spiegato che l'elettricità andava studiata, andava capito il sistema per capire anche poi le forme, per capire le strategie di comunicazione per capire anche le estetiche e poi quando è arrivato il digitale ci siamo di nuovo fermati ma no, abbiamo già studiato il tubo catodico e la pellicola perché ci fate studiare anche il digitale e invece secondo me è oggi il suo ruolo centrale perché come è stato detto prima è la lingua comune di tutti è la lingua della comunicazione e quella dell'informatica sono le logiche culturali della comunicazione e tanto più per settori come il cinema, la televisione e quei mondi audiovisivi che non si riconoscono più nel cinema della televisione